Un consuntivo da grandi eventi, quello della 51esima edizione dell'incontro internazionale polifonico a città di Fano, dieci giorni di polifonia nella nostra città, invitano l'amministrazione comunale a così dedicare un'altra location prestigiosa per un evento per il prossimo anno. Beh sì, l'attenzione che ha sollevato la 51esima edizione che ci dimostra che questo evento è in crescita, è in crescita con i numeri perché arrivano sempre più persone, sempre più coristi da fuori città e quindi in qualche modo danno anche un po' di mobilità alla città in un momento di extra stagionalità rispetto all'estate, la qualità è salita, sta salendo la qualità anche dell'offerta corale e quindi l'attenzione che poniamo è sicuramente per migliorare, per aiutare, sostenere questa manifestazione pensando per il prossimo anno di aprire il teatro eventualmente per o uno degli eventi più significativi del prossimo calendario oppure per l'evento finale che di solito ha una espressione con un numero molto alto di coristi e quindi ha bisogno di spazi e potrà godere della bellissima sonorità del nostro teatro. La novità di quest'anno è un tema, un tema che ha caratterizzato tutti i concerti. La donna, la donna dal punto di vista della musica, oggetto di musica, compositrice, esecutrice, la donna sotto tutti gli aspetti. Ebbene, com'è andata allora quest'anno? È andata bene perché comunque sia abbiamo visto che c'è stato un alto indice di gradimento nel pubblico e sicuramente anche questa scelta di dedicare il festival alla donna, al rapporto che c'è tra la donna e la società nel mondo musicale, nel mondo culturale, è sicuramente stata gradita e piaciuta ed abbiamo portato degli appuntamenti molto interessanti. Quindi speriamo che questa idea di dare una tematica al festival possa continuare anche nelle edizioni successive. Avere iniziato con la donna è sicuramente stato emblematico, importante. Ci fa capire che ancora devono essere fatti davvero passi avanti nella sensibilità delle persone nel capire il ruolo che la donna ha e che deve avere. Abbiamo portato qui a Fano brani di compositrici che magari non erano note e quindi il pubblico ha apprezzato questa cosa, così come tante direttrici. La bravura non è solo al maschile ma è allo stesso modo anche al femminile e quindi ci piace aver investito su questo aspetto. Quali sono anche dopo il successo di quest'anno le prospettive per il prossimo? Intanto è stato un grande impegno e il merito va a tutto il coro che si dedica per tutta l'organizzazione che non è semplice e poi anche protagonisti in una giornata, quindi è indubbiamente un momento significativo. In prospettiva, intanto per illustrare temi sociali o di altro genere per il futuro e quindi già questo è un significato. L'altro, dialogare ancora di più con il territorio se è possibile perché col territorio si può far sistema e quindi portare la polifonia anche altrove come già stato fatto quest'anno e anche l'anno scorso con peso capitali italiani della cultura. Terzo, direi anche usare le nostre strutture anche in maniera più ampia e poi dialogare anche con tutte le altre manifestazioni culturali della città perché indubbiamente la polifonia può essere proprio per il suo messaggio di unità, di corralità può essere veramente unificante per un contesto sociale più comunicativo e più tollerante in fondo. All'unico Grazie per la visione!